Luna Park Six Flags, New Orleans Apri il 20 maggio del 2000 e fu costretto a chiudere il 21 agosto del 2005 a causa dell'uragano Catrina 47 visitatori persero la vita all'interno del parco ed alcune voci dicono che sia persino infestato Nessuno infatti vuole tornare lì Dopo i tragici fatti avvenuti venne definito addirittura un posto maledetto Alcune persone però hanno preso coraggio e sono andate a visitarlo Parlando poi di strani avvenimenti al suo interno come apparizioni, cigolì e luci misteriose nella notte E di fatti è stato soprannominato il Luna Park dei morti Rimane uno dei posti più inquietanti e misteriose al mondo